Si comincia con Chieti, Manopello e Scafa, poi domani sarà la volta di Alanno, Rosciano e San Giovanni Tiatino, convocati dalla Regione per un vertice che avrà il compito di analizzare le possibili varianti al progetto presentato da RFI per il raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma. Dopo il sopralluogo dei giorni scorsi del Presidente Marsilio sulla tratta attenzionata e un primo stop al progetto di velocizzazione, la Regione ha invitato i comuni interessati al raddoppio per valutare la fattibilità delle varianti al progetto con una lettera a firma del Direttore del Dipartimento regionale Infrastrutture e Trasporti Emilio Primavera. Questa mattina è stata la volta di Manopello, Chieti e Scafa. Giorgio De Luca, Sindaco di Manopello, ribadisce la validità della variante dell'interporto. Manopello ribadisce fortemente l'alternativa quella dell'interporto, cioè la variante tra Chieti e Manopello che non distrugge e demolisce ma bensì va a realizzare una ferrovia che costeggia l'autostrada per raggiungere l'anno. Un progetto molto importante che noi ci aspettiamo da oltre 30 anni e speriamo che attraverso i tecnici della Regione RFI possa capire che questo è il progetto valido. Il progetto presentato da RFI non è accettato assolutamente da nessuno, in particolar modo da Manopello dai Tieri perché questo progetto distrugge Manopello, distrugge Brecciarola e il controsenso è che dentro Manopello viene raddoppio, subito il Manopello va in variante, un viadotto di un chilometro e sei che spezza Manopello, spezza la pallata del Pescara ma soprattutto non risolve i problemi di all'anno gas. Convocato al tavolo in Regione anche Diego Ferrara, sindaco di Chieti, che ha ribadito con fermezza la fattibilità della variante dell'interporto. Che tra l'altro era già prevista in un piano del 2007 e che eviterebbe l'impatto ambientale in un territorio intensamente antropizzato come quello di Brecciarola e Manopello. È un progetto assolutamente fattibile dai costi aggiuntivi assolutamente ammortizzabili, conseguentemente noi lo porteremo e lo sottolineeremo con forza fino alla conferenza dei servizi che a breve, seppur non abbiamo una data certa, ma a breve verrà confermata. Si parla anche dell'interramento della ferrovia per questo progetto che riguarda principalmente il comune di San Giovanni Tiatino ma che riguarderà anche una parte del comune di Chieti. Per questo lotto che interessa la comunità di San Giovanni Tiatino, di San Martino che è un altro popoloso quartiere periferico di Chieti e Chieti Scalo. Noi stiamo battendoci per l'interramento anche qui per per evitare la distruzione di un tessuto urbano che verrebbe letteralmente sconvolti se la nostra opzione dell'interramento non venisse accettata.